L'azienda è l'azienda olivieri stefano storica per il bio nel 93 i miei genitori hanno pensato bene di fare un fruttetto completamente bio attorno agli anni 2000 abbiamo deciso di convertire tutto e passare alle orticole l'azienda in origine era 7 ettari oggi l'azienda è 30 e di cui 7 di serre e il resto della superficie è un'azienda orticolo cerealicolo ci sono una quindicina di dipendenti l'azienda è sempre stata biologica coltiviamo per la stagionalità insalata cavolo rapa nel periodo invernale nel periodo estivo melone cetriolo cavolfiore pomodoro e fagiolino in pieno campo con raccolta macchina cerchiamo di seguire molto la stagionalità perché non ha senso il biologico andare a forzare con riscaldamento con altre strutture qua ci troviamo in una serra di pomodoro una cultura molto importante per la mia azienda da lavorare praticamente per sei mesi all'anno lo coltiviamo varie varietà peretto grappolo cuore di bue del datterino proprio per dare al mercato la possibilità di avere un'ampia gamma il pomodoro di per sé non è una pianta molto difficile da fare però ha le sue problematiche quest'anno è stato fuori l'affide del pomodoro abbiamo avuto problemi di tuta per le basse temperature quindi gli insetti utili non sono riusciti a instaurare un equilibrio all'interno delle serre qualche problemino adesso comincia ad esserci per l'umidità e quindi dobbiamo aumentare le aperture e gestire al meglio le irrigazioni e le concimazioni perché bio bio perché mio padre pur essendo un insegnante era un perito agrario e non credeva più che l'agricoltura convenzionale potesse essere il futuro e ha pensato di girare totalmente l'azienda lasciata di nonno a biologico e biologico crediamo tutti in famiglia che sia il futuro ma perché vedi che si creano degli equilibri perché credi che la natura vada rispettata e rispettati i tempi della natura l'azienda è tutta completamente coperta di siepi proprio per creare un ecosistema creare un ambiente sano dove poter produrre dei prodotti sani il bio è il futuro noi ci crediamo e crediamo che non ci possa essere un'agricoltura diversa da quella biologica